Approvata la trimestrale di bilancio ma senza l'ok di Orgoglia Maranto, nessuna ricapitalizzazione invece del capitale sociale, così si è conclusa l'assemblea dei soci della società sportiva Arezzo, collegato via streaming il presidente Giorgio Lacava, mentre negli uffici dello studio di Giovanni Grazzini era presente Stefano Farsetti, presidente di Orgoglia Maranto. Un'ora circa di discussione che è servita per parlare della trimestrale al 31 marzo 2020, un atto formale per la continuità aziendale, il documento però non è stato firmato all'unanimità, Orgoglia Maranto che detiene l'1% del capitale sociale non ha infatti dato il proprio ok, bocciando così di fatto la gestione economica del club Maranto. La trimestrale venerdì dovrà essere poi trasmessa il Covisoc insieme a tutta una serie di documenti che fanno da preludio all'iscrizione al prossimo campionato da completare e formalizzare entro il 5 agosto. Non c'è stata inoltre la ricapitalizzazione della società circa 500.000 euro. A questo punto la prossima scadenza è quella del 15 luglio, data entro la quale dovranno essere saldate le mensilità di marzo, aprile e maggio per tutti quei contratti non superiori a 26.000 euro e che hanno usufruito delle nove settimane di cassa integrazione. Serviranno così tra meno di una settimana circa 150.000 euro. L'assemblea di questa mattina infine è stata inevitabilmente anche l'occasione per parlare delle trattative in corso per la cessione del club Maranto. Il presidente Giorgio Lacava ha confermato l'incontro del suo legale nella giornata di ieri con gli imprenditori legati ad Ermanno Pieroni, pur decidendo di mantenere al momento il più stretto riservo su altri dettagli.